Dice che è scritta con il numero? Sì, credo di sì. Sette. Grazie. Intanto faccio tanti cari auguri a Paola. Sei sicuro che si cambia? Sette e quattro? Sì. Sì. C'è quella qua? Non c'è se... Cercare la tua mia? Sette e quattro. Non la trovi? No, sto spendo a... C'è un numero a... Questo, mi sembra di... Sì. Se lui è un'alternativa, ne ha un'altra? Perché questa... Sì, allora ne faccio sempre un'altra di Battisti. Ok. Pensieri e parole. Ecco, questa ce l'ho, vedi? Ok. Facciamo questa l'altra. Pensieri e parole o premissioni. Sì. Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafiggia i solai che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di peniferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, in nome Dio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura di essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio è rosa ormai, e sfida il vento, e sfida il vento, tu lo sai, tu lo sai. Sì. Com'è chi ne sai ? E attended la mia, ri trafiggia i soli. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti